Io ti dico, l'unica cosa che mi impastidisce, però ormai ci sono abituato, quando mi dicono no, ma tu suona, suona e poi dopo lo taglia. Poi trovi il frammento. Giusto, ti capisci? Poi la registriamo flat l'armonica, poi dopo se ci sono da fare delle cose le fai tu da lì, giusto? Qua è sempre la solita spanna dal microfono, giusto? La regola della spanna, ok? Ho usato l'armonica in fa basso, metti che poi dopo nel messaggio, eh lo so, però tu lasciala, lasciala perché è come la cotena del maiale, prima o poi viene buona, quindi con i taglia in colla qualcosa di buono. Perché poi parlando di sala prove, anche se l'armonica è scarsa, ricorda la sala prove di quelli che andavano lì e facevano gli sboroni senza esserlo, quindi c'è sempre un dunque. Allora che la 我ge che l'armonica in focani Allora che lo can Ursa sono ma woo la совершенно la vala Grazie a tutti E poi c'è una coda che è fatta dalla terza che dopo magari ti faccio un baggeggio lì Ma la cosa che se avevi voglia era collegandosi direttamente a questa qui nel finale Ma la stessa tonalità dici? Si Con la stessa tonalità Si con la stessa tonalità O un'altra cosa completamente Ma anche con la stessa tonalità come se fosse che tu Hai iniziato a suonare lì poi il pezzo è finito Ok 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 Ah anche di quelle che mi piacciono quando si sentono Magari una trentina di secondi di libertà E poi alla fine se vuoi io sto lì con te E non lo vedi un po' Cioè meno male che ho ammolato la sala che mi fanno aspettare due ore di tappo Sì 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 scusi io la conosco lei ma lei è Hai indovinato Allora è un po' Sono il punto ribadourale È il punto muocco Non si può medaggini. E poi alla fine quando non finisce si finisce così va meno male che se ne sono andati mi fanno sempre aspettare delle ore scusa ma io lei la conosco ma lei è esatto il puma di Lambrate si si guarda questa magari posso avvicinarla leggermente anche provati il finale di un altro di un altro dei due un altro finale ok tanto per sentire i suoni diversi si 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 mi prometti di fare un questa questo è il finale è la pietra guarda, questo qui è già il finale da qua vediamo se ci sta da qua vediamo se si attacca bene all'altro questa parte messa sul finale della prima è del momento di salutare la staffa e le riprese alla prossima volta, grazie, ciao il primo maggio è fatto il primo maggio è fatto di gioia ma anche di noia è bellissimo è troppo bello, ho fatto da lui una figata ce l'avete? com'è? secondo me puoi fare un'altra se vuoi per avere un'altra, due, parti subito cioè pan 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 grazie a tutti